Il Istituto Zoo Profilattico Caporale, risorse pubbliche a favore della Lega del Cane, indagati in undici tra dirigenti e funzionari. Teramo Ambiente, picchetto degli operai in esubero dinanzi alla prefettura. A noi sta bene anche raccogliere i rifiuti. Cronaca, appostati davanti all'ufficio postale, pronti alla rapina, sono stati bloccati dai carabinieri. Arresto per droga, nascondeva la cocaina nelle ruote dell'auto e una pistola sotto al cuscino. Comuni in cantiere, Crognaleto vince 5,6 milioni per rifare il trucco al borgo. Port Calcio, il Teramo si prepara per Prato, sarà lì la festa? Stasera il Bomber Lapadula a Biancorossi. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. La finanza e i carabinieri di Teramo chiudono un doppio filone di indagine sulla stessa matrice, che coinvolge la vecchia gestione dell'Istituto Zoo Profilattico Caporale di Teramo. Sono 11 gli indagati tra dirigenti e funzionari dell'ente di Via Campo Boario e la Lega del Cane, sotto accusa 300 mila euro in mangimi e interventi sanitari in favore dell'associazione che gestiva il canile dell'ente, ma anche la vicenda lavorativa di un veterinario sospeso perché si rifiutava di sterilizzare gratuitamente cani dati in adozione ai privati. I dettagli nel servizio. Sterilizzazioni di cani e gatti, crocchette croccantini, lettiere cuccette, acque e perfino la corrente elettrica per i locali dell'associazione. Oltre 300 mila euro sotto forma di sostegno alimentare delle utenze, concessi dall'Istituto Zoo Profilattico Caporale alla Lega del Cane, sono passati sotto la lente di ingrandimento della Guardia di Finanza e dei carabinieri, che hanno concluso l'indagine. Nucleo di Polizia Tributaria delle Fiamme Gialle, il reparto operativo provinciale dell'Arma con l'ausilio del NAS di Pescara, hanno lavorato inizialmente alle sterilizzazioni a titolo gratuito, erogate a cani e gatti ricoverati nella struttura concessa alla Lega, per poi passare a verificare l'accordo siglato tra l'associazione e l'istituto stesso. L'indagine ha accertato che l'IZS, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2013, avrebbe utilizzato risorse finanziarie in favore della Lega, imputando indebitamente i costi di gestione del canile concesso in uso all'associazione, con l'inserimento fraudolento di condizioni contrattuali diverse da quelle previste nella delibera di concessione e nella relativa bozza originaria di convenzione approvata. La somma di denaro di cui l'istituto si è fatto carico, non dovendo, ammonda infatti a 300 mila euro per l'acquisto di acqua, mangime e consumo di energia elettrica, originariamente non previsti nella prima delibera, spese alle quali si sarebbero aggiunte in seguito anche quelle per le sterilizzazioni degli animali, effettuate senza motivo e senza corrispettivo. Adesso saranno in sette tra dirigenti e funzionari dell'istituto zooprofilattico e il rappresentante legale della Lega a rispondere tra le contestazioni anche di peculato e abuso d'ufficio. Non è la prima inchiesta che si chiude. Quella dei carabinieri riguarda invece una serie di indebite contestazioni disciplinari nei confronti di un dipendente da parte di dirigenti e funzionari dell'istituto di Via Campo Boario. Il veterinario si era infatti rifiutato di sterilizzare cani dati in adozione ai privati su richiesta di questi ed era stato sospeso dal servizio nonostante il suo comportamento era risultato regolare perché tale attività non rientra tra le competenze dell'ente. Cinque sono i dirigenti e funzionari denunciati alla magistratura e che dovranno rispondere di abuso d'ufficio e usurpazione di funzioni. Tutto questo lavoro investigativo è stato accompagnato anche da una segnalazione alla Corte dei Conti per il recupero del danno erariale per i 300 mila euro sborsati dall'istituto zooprofilattico. Un picchetto di lavoratori della TEAM ha protestato questa mattina davanti alla Prefettura contro la procedura di mobilità che l'azienda ha aperto per 46 dipendenti che lavorano all'interno dei servizi di pulizia degli immobili e di quelli museali. I dipendenti con striscioni di protesta si sono nuovamente rivolti alle istituzioni per avere garanzie sul futuro lavorativo chiedendo che vengano messe in campo soluzioni alternative e rinnovando la loro volontà a svolgere anche i servizi di igiene ambientale del porta a porta per poter così tutelare il posto di lavoro. A manifestare solidarietà c'erano anche i lavoratori ex Soggesa e alcuni esponenti politici di servizio. Manuela Di Pasquale, lei è qui questa mattina a sostegno dei dipendenti che sono in esubero. Il suo sostegno in quale direzione va? Intanto è una solidarietà che si esprimono dei dipendenti che rischiano attualmente di perdere il posto di lavoro. Il sostegno è una proposta concreta ed è importante per loro e che siccome si è avviata la pratica di mobilità io chiedo, noi chiediamo che venga revocata nell'immediatezza e che si avvia invece una pratica per la cassa integrazione o per contratti di solidarietà in modo che i contratti di lavoro intanto rimangono per qualche mese per trovare poi una soluzione che possa ricollocare questo personale o all'interno della TEM negli altri servizi o all'interno di altre municipalizzate. C'è un re che non vuol vedere, c'è un re che non vuol sapere, c'è un re che non scende dal trono, c'è un re che non fa nessun dono. Chi è questo re? Ma diciamo che in generale per coloro che magari potrebbero fare un po' di più per noi. Ecco, voi dite no alla mobilità, per questo in mattinata avete organizzato questo picchettaggio. Cosa sperate di ottenere? Noi speriamo che magari riescano a tornare indietro sui loro passi, sulle decisioni che hanno già preso perché con la mobilità automaticamente siamo fuori e non possiamo più avere speranze di rientrare. Invece magari con la cassa integrazione, anche se sei mesi, un anno, non so, poi sono loro che comunque devono provvedere, sanno le leggi e quindi si devono impegnare perché noi non finiamo in mobilità. Noi siamo disposti anche ad andare alla nettezza urbana, cioè a fare il porta a porta, per noi non c'è problema, purché non si perde il posto di lavoro. Mimmo Daniele, reduce da tante battaglie per il problema della ex Sogesa, perché qui stamane? Sono venuto qui per portare in primo luogo la solidarietà e poi la mia esperienza per dire a loro di non fare anche gli stessi errori che ho fatto io nel passato. Il primo errore è stato quello di fidarsi della politica, di altri e questo alla fine ci riporta... Un altro errore è quello di non dividersi, di rimanere uniti, di lottare pacificamente, forse a volte non hanno lottato pacificamente. Il sindaco di Teramo dopo la protesta dei lavoratori è tornato nuovamente a sedare le preoccupazioni. Brucchi ha garantito che la politica sta lavorando per riassorbire parte delle lavoratrici e che gli strumenti normativi ci sono, sia per prevedere contratti di solidarietà che per il ricollocamento. Sentiamolo. No alla mobilità, sì alla cassa integrazione. Questo in estrema sintesi quanto chiedono i lavoratori nei superiuti della termo. Io credo che sia assolutamente giusto e tra l'altro il presidente Bozzelli e Anna Di Ruffo ci stanno già lavorando perché già due o tre settimane fa sono stati dal direttore dell'Inps a valutare tutte le possibili strade da percorrere compresa la cassa integrazione. Mi rendo conto che la cassa integrazione è sicuramente la strada preferibile rispetto alla mobilità ma se ci sono i presupposti la TEM seguirà quella strada. Io dico ancora che prima ancora di quello bisogna fare in modo di salvare tutti i posti di lavoro e la possibilità c'è. È chiaro che è un lavoro difficile però una possibilità comunque da perseguire. Ho invitato il presidente della TEM a parlare con i dipendenti per una solidarietà aziendale. In questo momento c'è bisogno alla TEM di solidarietà. Lo si può fare e ne devono essere consapevoli tutti i dipendenti perché in un momento difficile tutti devono stringersi attorno alla società e credo che se questo viene recepito e capito da tutti i dipendenti credo che si possa raggiungere l'obiettivo. È difficile, è dura, bisogna lavorarci. C'è il tempo per farlo e quindi mi rendo conto, capisco anche della manifestazione, condivido anche la manifestazione di questa mattina perché sono persone che comunque vivono una situazione di ansia, di stress, di preoccupazione e quindi diciamo vanno supportati. Io non ho potuto partecipare perché impegnato in attività istituzionali di commissione però ripeto, insomma, vengono spessissimo da me, parlo spessissimo con loro. Ripeto, la TEM sta perseguendo tutte le possibilità, tutte le possibilità. La cronaca. Il magistrato Luca Sciarretta, disposto all'autopsia sul corpo di Rinaldo Di Lorito, l'idraulico 61enne di Spoltore, travolto e ucciso ieri mattina da una moto mentre percorreva con una comitiva di ciclisti la statale 150 nei pressi di Guardia Vomano. L'affidamento della perizia medico-legale è prevista in giornata e sarà eseguita molto probabilmente domani. L'artigiano pescarese è rimasto vittima di una tragica fatalità. Ha perso l'equilibrio con la sua bicicletta mentre cercava di evitare la carcassa di un riccio morto sull'asfalto nel momento stesso in cui sopraggiungeva alle sue spalle una motocicletta che stava sorpassando il gruppo. L'impatto è stato tremendo e fatale per l'uomo che è praticamente morto quasi sul colpo mentre i compagni di passeggiata e il personale del 118 tentavano inutilmente la rianimazione. Sono stati notati mentre si aggiravano con fare sospetto dinanzi all'ufficio postale di Paolo Antonio di Sant'Egidio alla vibrata ed è subito scattato l'allarme. Dopo la telefonata alla centrale del 112 personale militare dell'arma si è avvicinata all'ufficio pubblico e ha seguito per un po' i movimenti di due giovani pugliesi originari di San Severo e poi hanno deciso di procedere con l'identificazione. Entrambi avevano indosso guanti di quelli utilizzati per non lasciare impronte e uno dei due in particolare aveva in tasca un taglierino. Che fossero lì pronti per una rapina all'ufficio postale è un'ipotesi altamente probabile. Condotti in caserma per le formalità di rito uno è stato denunciato per possesso di oggetto atto ad offendere e entrambi sono stati invece proposti per l'emissione di un foglio di via obbligatorio. Nascondeva oltre un etto di cocaina all'interno delle gomme della sua macchina in un garage a sua disposizione tra attrezzi vari e altro materiale. Lo hanno scoperto gli agenti della squadra mobile della polizia di Teramo nel corso di una operazione antidroga condotta a Silvi. In manette è finito un 42enne del posto al quale non è stato trovato solo lo stupefacente. Oltre a dossi di cocaina bilancino di precisione 1800 euro in contanti l'uomo sotto la federa di un cuscino nascondeva una pistola di segnalazione acustica. L'arma era stata modificata con precisione fino a diventare una pistola vera con tanto di caricatore. Per questo motivo oltre che per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 42enne è stato arrestato per possesso di arma clandestina. E lasciamo la cronaca cambiamo argomento. Trivelle prossima fermata Pescara il forum abruzzese per i movimenti per l'acqua comitato notrib nuovo senso civico Pescara.0 lanciano l'allarme per le trivellazioni sul tratto costiero abruzzese. stanno preparando l'attività estrattiva senza che la regione prenda una posizione precisa e il comune di Pescara si faccia sentire dicono il servizio. Perché dovrebbero far paurura queste ricerche queste trivellazioni che vanno da Ortona Francavilla Pescara Montesilvano Praticamente tutto il mare abruzzese è interessato da queste istanze di ricerca di trivellazioni Ombrina Mare di cui parliamo tanto giustamente e il caso più avanzato è la punta dell'iceberg perché è il progetto che potrebbe partire fra qualche mese proprio a trivellare Poi c'è Elsa 2 di fronte a Francavilla i cittadini che vanno al mare a Francavilla devono sapere che quando passeggiano sulla spiaggia praticamente quello è il limite della concessione petrolifera verso il mare cioè per far capire a che distanza di che distanza stiamo parlando Poi ci sono due richieste dei petrolieri proprio di fronte Pescara e Pineto E l'associazione Pescara Punto Zero vuole sapere conoscere dall'amministrazione comunale se sarà coerente con le decisioni prese con quella risoluzione votata all'unanimità contro la deriva petrolifera votata nel settembre 2014 Il presidente D'Alfonso in campagna elettorale aveva parlato di scongiurare l'atterraggio degli UFO allora noi chiediamo c'è una coerenza tra amministrazioni comunali di colore del PD giunta regionale a guida PD e Parlamento e Governo nazionale questa è la nostra domanda ci auguriamo che tra qualche tempo ci sia una si riprenda avere una certa coerenza dal punto di vista politico soprattutto per la salvaguardia del nostro ambiente e del nostro sviluppo economico Sì però qui stanno facendo semplicemente dei rilievi dei sondaggi delle ricerche non tireranno fuori petrolio almeno per ora No no Ombrina vuole tirare su petrolio per 25 anni decine di migliaia di barili e Elfa 2 la stessa cosa vogliono trivellare per iniziare a capire se c'è petrolio lo tiro anche un po' su per fare le prove di produzione e qualora dovessero trovarlo poi vanno in produzione quindi in realtà il pericolo è proprio non solo reale ma è proprio presente e quindi serve una mobilitazione per evitare questa deriva petrolifera e abbandonare il mondo dei fossili E restiamo in tema l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina non bloccherà il progetto dell'insediamento petrolifero di Ombrina Mare 2 di fronte al litorale Frentano e la risposta del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti in Parlamento all'interrogazione presentata dal Senatore Fabrizio Di Stefano Sentiamo L'insediamento del Parco della Costa Teatina non bloccherà Ombrina Mare a dirlo è il Senatore Fabrizio Di Stefano che ha riferito alla stampa il parere del Ministro dell'Ambiente Galletti Il Ministro Galletti alla mia precisa domanda al Question Time ha detto che non ci sono condizioni perché il Parco vincoli il territorio in modo tale da non far sorgere Ombrina Mare e allora noi diciamo che il Parco è inutile a questo punto e che la menzogna del centro-sinistra di dire che sarebbe stato sufficiente il Parco a bloccare Ombrina è falso per bloccare Ombrina occorrono altri provvedimenti che la regione deve fare che deve fare anche in sintonia e in sinergia con il territorio Il provvedimento continua di Stefano sarà portato in consiglio regionale perché qualcosa si può ancora fare ma la regione deve prendere una posizione chiara e coerente è favorevole a Ombrina Mare lo dicesse in Abruzzo e lo dicesse a Roma e contrario a Ombrina Mare lo dicesse in Abruzzo ma soprattutto lo dicesse a Roma laddove vengono prese le decisioni noi pensiamo che si possa ancora bloccare ma lo si deve fare con gli strumenti normativi che alla regione competono e con le scelte con i pronunciamenti che la regione sui tavoli competenti ha facoltà e obbligo di fare I gruppi consigliari di centro-destra hanno denunciato con forza la situazione di degrado della pista ciclopedonale che collega il centro storico di Pescara e la Fater la richiesta al sindaco Alessandrini non è quella di riqualificare l'area ma di chiudere il tratto di strada per salvaguardare soprattutto la salute dei cittadini e il servizio siamo sulla pista ciclopedonale che costeggia il fiume qui questa mattina c'è stato un sopralluogo dei consiglieri di centro-destra che hanno evidenziato la situazione di grave abbandono in cui versa questa importante strada Sì l'hanno lasciata l'abbandono come potete notare l'erba alta siringhe ovunque c'è una zona dove c'è una prostituzione adesso abbiamo chiuso con i lavori per l'asse attrezzato per lo svincolo dell'asse attrezzato una parte di questa pista ciclabile e c'è prostituzione siamo arrivati a una situazione invivibile e la città non conosce nemmeno più questa non riconosce più questa pista ciclabile Questo spaventoso degrado non riguarda solo la pista ciclopedonale ma tutta la zona circostante non calpestare le siringhe è quasi impossibile la notte il luogo diventa un ritrovo anche per le prostitute uno spettacolo triste agghiacciante se si pensa che la zona è aperta a chiunque Questa zona è importante ricordare che è stata oggetto di un'importante riqualificazione che è stata eseguita dalla provincia di Pescara con dei fondi anche messi a disposizione dalla stessa Fader basta vedere che qui le panchine per esempio sono state fatte con materiali di riciclo e quindi c'era un intervento qualche anno fa la pista era veramente molto carina c'è stato l'esondamento del fiume qualche tempo fa che ha creato dei disagi ma non pensavamo con i sopralluoghi che abbiamo iniziato a fare di trovare questa situazione oggi noi qui più che una riqualificazione chiediamo al sindaco e alla giunta di intervenire immediatamente per ridare il minimo di decoro e soprattutto riteniamo che questa strada vada chiusa perché noi nei vari sopralluoghi abbiamo incontrato persone a nostro giudizio c'è l'emergenza sanitaria in questa strada sia per la prostituzione come diceva il collega Pastore ma anche perché abbiamo potuto vedere si può notare insomma agli occhi di tutti che c'è una grave insomma c'è un grave ritrovo per chi purtroppo fa uso di sostanze stupefacenti e torniamo a Teramo e torniamo a parlare dello svincolo dell'8-0 della Gammarana perché sono ufficialmente ripartiti i lavori per la realizzazione di questo sofferto e intervento l'ultima battuta di arresto si era avuta con la perimetrazione del cantiere che aveva fatto pensare ad un avvio delle ruspe il sindaco Brucchi ha spiegato i passaggi che hanno condotto a qualche intoppo ma adesso il cantiere è ufficialmente ripartito sono ripartiti i lavori per lo svincolo dell'8-0 è la volta buona? è la volta buona finalmente abbiamo chiuso tutte le attività e anche le criticità compreso anche quella della valutazione degli espropri perché c'era stato richiesto un arbitrato l'arbitrato è stato fatto ha concluso i propri lavori per cui insomma davvero cerchiamo abbiamo cercato anche di soddisfare le richieste le esigenze dei proprietari è un'opera importante è un'opera che va fatta è un'opera che è già finanziata ed è un intervento importante soprattutto perché quella zona quella parte della città la zona della Gammarana con tutta una serie di interventi prossimi è una delle zone dove ci potrà essere uno sviluppo sviluppo che deve essere comunque come dire deve essere seguito e deve essere anche controllato dall'amministrazione lì c'è l'area dell'ex Villeroi ma ci sarà anche l'area sportiva ci sarà anche la sede futura della Terramo Calcio tutta una serie di interventi ci sarà anche una Greenway insomma un intervento tanti interventi l'arretramento della stazione però quello svincolo è importante per la crescita di questa città quindi finalmente speriamo riteniamo di aver chiuso tutte le criticità e ieri sono ripartiti i lavori il comune di Crognaleto si è aggiudicato 5 milioni e 600 mila euro per un progetto finalizzato alla valorizzazione ambientale del comprensorio Tottea Fucino grazie ai fondi stanziati dal Cipe nel programma Cantieri in Comune oltre alla valorizzazione delle bellezze naturali è prevista anche la realizzazione di aree a verde naturale percorsi da trekking valorizzazione di vecchi fontanili pinette di interesse storico ambientale sentiamo il sindaco al comune di Crognaleto arrivano 5 milioni e 600 mila euro grazie al progetto voluto da Renzi denominato Cantieri in Comune una bella boccata d'ossigeno per il piccolo comune montano molto di più io credo che sia un grande sviluppo per un territorio per una vallata per l'alto romano perché valorizziamo un intero ambiente valorizziamo un'intera realtà che è quella di Tottea Fucino un sistema insomma che si lega molto bene al turismo un sistema che si lega molto bene all'espansione di un territorio alla rivalutazione alla rimodulazione ma soprattutto poi ecco noi andiamo a intercettare anche la condotta del metano che già è fruibile a Fucino quindi con questa occasione porteremo il metano a Tottea per poi arrivare insomma nel territorio comunale Sindaco si aspettava questi soldi perché erano tanti i comuni in Italia in lista d'attesa diciamo così beh devo dire che lo scorso anno quando il presidente Renzi ci ha comunicato meglio ci ha chiesto notizie sull'allendamento del patto di stabilità e sulle opere che necessitavano al nostro comune io ho inserito questa diciamo questa idea è un'idea dell'amministrazione che poi viene dalla storia Tottea aspetta questo momento forse da oltre 60 anni una variante al paese quindi parliamo proprio di uno stravolgimento e di una come devo dire un rilancio di un territorio di un comprensorio un po' incredulo però insomma devo riconoscere che Renzi è veramente molto pragmatico ha accolto la nostra richiesta lo scorso anno mi ha fatto l'allendamento del patto di stabilità quest'anno questa non una manna qualcosa di più insomma credo che veramente ne valga come devo dire la pena di vivere questo momento così importante per il mio territorio sono tanti soldi ma sono spendibili subito sono cantierabili al primo di settembre due parametri essenziali la paltabilità entro questo mese la cantierabilità entro la fine di agosto a breve verrò chiamato dal ministro per la stipula della convenzione di lì il primo trasferimento del 40% e poi a seguito in base alle progettazioni ancora una commissione tumultuosa questa mattina in comune a Teramo che ha visto l'ennesimo scontro consumarsi tra maggioranza e opposizione oggetto della commissione permanente organizzazione affari generale e personale preseduta dal consigliere Luca Corona del nuovo centrodestra sono stati i regolamenti da portare in consiglio che disciplinano le nuove regole di polizia mortuaria e i criteri per la concessione dei loculi e il regolamento sull'uso e la gestione degli impianti sportivi secondo alcuni esponenti dell'opposizione che hanno protestato abbandonando l'aula i documenti approdati sui banchi per la valutazione dei consiglieri sono stati ricevuti all'ultimo momento e non è stato concesso il tempo necessario ai consiglieri per un approfondimento secondo la maggioranza il regolamento comunale prevede che solo per il consiglio comunale i documenti debbano approdare entro le 48 ore precedenti alla discussione mentre questo criterio non vale per le commissioni in aula sono rimasti soli i consiglieri di minoranza di Teramo Cambio Antonio Filipponi e Maria Rita Santone che proporranno un emendamento per la modifica del regolamento vigente restiamo a Teramo e parliamo di un'iniziativa culturale che si terrà a metà aprile Assessore Luca Antoni il noto giornalista Paolo Mieri sarà a Teramo ospite del comune della fondazione Tercas per un Alexio Magistralis Sì ho avuto l'opportunità di incontrare e conoscere una collaboratrice del dottor Mieli e insieme alla fondazione Tercas è nata l'idea di creare un appuntamento per la nostra cittadinanza un Alexio Magistralis che terrà il dottor Paolo Mieli il 19 maggio qui alla sala San Carlo andremo a toccare principalmente il tema dell'Islam stiamo definendo insieme il titolo dell'iniziativa quindi daremo comunicazione sicuramente è un tema molto attuale quindi sia noi come comune che la fondazione Tercas che lo staff del dottor Mieli siamo stati tutti quanti d'accordo sulla scelta di questo tema perché crediamo che sia veramente di grande attualità e di grande importanza in questo momento Ecco un tema di attualità a livello nazionale ma anche a livello locale visto che si è parlato tanto anche di centri di migrazione qui a Teramo comunque il tema dell'integrazione è importante anche per la nostra città? Assolutamente sì infatti a seguire ci sarà un dipatto tutti quelli presenti che vorranno intervenire insieme al dottor Mieli e sicuramente verranno sviscerati questi argomenti e queste tematiche Lampi a Teramo è tornata a celebrare il ricordo dei tre partigiani teramani uccisi e affucilati a Cartecchio il 13 aprile del 1944 Lampi non dimentica mai non dimentica mai di ricordare quei tre giovani che furono assassinati a Cartecchio Sì, questi erano tre giovani pensate in treno non arrivavano a 60 anni furono catturati in agro di Montorrio portati qui nel carcere di Sant'Agostino qui furono seviziati malmenati nei giorni successivi furono trascinate di fronte al tribunale speciale i ragazzi si chiamavano De Cupis Cuccherato e Castelli mentre il presidente del tribunale pronuncia la condanna a morte De Cupis si alza in piedi e dice e grida noi non siamo dei traditori al petto dovete colpire non alla schiena furono riportati nel carcere il giorno successivo furono tradotti presso il cimitero di Cartecchio e lì si consuma una tragedia i ragazzi a forza vengono legati alle sedie il plotone di esecuzione spara Cuccherato e Castelli muoiono subito De Cupis respira ancora e questo ragazzo ha ancora la forza di gridare ai suoi carnefici Migliacchi vi avevo detto che non sapevate nemmeno sparare sabato scorso a Spoltore si è svolta la giornata nazionale di prevenzione dell'Alzheimer i dettagli nel servizio Alzheimer conoscere per prevenire per quanto sia possibile anche in Abruzzo l'ottava edizione della giornata nazionale di predizione dell'Alzheimer organizzata dall'ANAP associazione di pensionati a Spoltore in piazza di Marzio allestito un gazebo per avere tutte le informazioni sulla malattia e sulle strutture che si occupano della cura dei malati e soprattutto dell'assistenza alle famiglie che sono particolarmente fragili nell'affrontare situazioni troppo spesso drammatiche all'improvviso si manifesta con dei disturbi di memoria perdita della personalità dell'identità della persona è importante quindi un sostegno per le famiglie perché non riconoscono più il proprio familiare così come era qualche tempo prima le difficoltà assistenziali e la persona stessa che non riconosce più se stesso non riconosce più il proprio ruolo all'interno della società il morbo di alzheimer prende il nome dallo psichiatra tedesco alois alzheimer che descrisse per la prima volta la malattia nel 1907 è una forma di degenerazione neuronale progressiva che aggredisce il 35% delle persone tra gli 80 e i 90 anni l'11% delle persone tra i 60 e gli 80 e attacca l'1% delle persone prima dei 65 anni in italia ci sono 492.000 pazienti in cura questo rappresenta un grave problema sociale perché diminuisce progressivamente l'autosufficienza delle persone colpite e causa degli effetti invalidanti nel gazebo di spoltore i cittadini hanno potuto sottoporsi gratuitamente a controlli glicemici alle misure audiometriche e della pressione arteriosa condotta dagli esperti della Croce Rossa italiana e della Maico partners dell'evento qualora malauratamente dovesse risultare positivo a questo test verrà contattato direttamente dall'Università della Sapienza di Roma e informato del rischio che può correre non è sicuro viene solo detto guarda che tu sei a rischio per cui sarebbe bene che da oggi in poi cominci ad avere un certo comportamento un corretto stile di vita per quello che è l'alimentazione per quello che è il movimento che uno fa ecco una bellissima giornata di sole per il primo Pineto Dog Festival ottima iniziativa dell'amministrazione comunale che ha centrato l'obiettivo della sensibilizzazione dei più giovani soprattutto e dell'educazione il servizio Pineto città Pet Friendly domenica 12 aprile primo Pineto Dog Festival la manifestazione dedicata agli amici a quattro zampe l'amministrazione comunale ha voluto organizzare questo evento insieme a Danta Onlus Pineto e a Universe Dog per sensibilizzare sempre di più sull'importanza dei cani anche dal punto di vista sociale ha spiegato l'assessore all'ambiente Laura Traini le due associazioni si occupano di educazione cinofila e di prevenzione all'arrandagismo sul territorio pinetese inoltre l'obiettivo di chi vive con un cane è il poter trascorrere più tempo possibile con lui condividendo gran parte delle situazioni che la vita quotidiana fornisce lavoro, ristorante i mezzi di trasporto tutto questo è reso possibile da un corretto indirizzo di sviluppo del cane fornito dalla figura dell'educatore capace di svolgere un'azione pedagogica e di consulenza della relazione e questo lo sa fare molto bene l'associazione Universe Dog intensa la giornata alle 10 la partenza dal Parco della Pace della classica passeggiata a sei zampe lungo l'itinerario naturalistico della pineta storica alle 12.30 poi l'esibizione di Mobility Dog in compagnia degli educatori della Universe Dog e di Gigi Raffo istruttore ed educatore cinofile nonché presidente del Parco Canile di Rovoreto nel pomeriggio infine la sfilata cinofila amatoriale dedicata a tutti i cani meticci giudici della sfilata i ragazzi della scuola primaria di Pineto le giornate di Civitella evento organizzato dalla fondazione Cantiera Abruzzo Italia aprono al confronto con i giovani e gli ideali passioni ancora possibili interessante il confronto con Alessandro Albanese che ha presentato il suo libro sulla fronte della gioventù il servizio una gioventù di ideali e passioni è ancora possibile l'interrogativo diventa il filo conduttore delle giornate di Civitella evento incontro e confronto che per il sesto anno la fondazione Cantiera Abruzzo Italia organizza nella location non casuale della fortezza di Civitella del Tronto cambiano i punti di riferimento cambiano i contesti ma certamente i valori restano gli stessi se ieri c'era un assalto ai valori da parte di un nichilismo comunista oggi c'è un assalto ancora più pericoloso ai nostri valori di riferimento alla nostra società a Cardine fatta dall'estremismo religioso islamico e allora ribadire quali sono i valori dell'Europa quali sono i valori dell'Italia quali sono i valori per i quali cento anni fa molti giovani italiani andarono a dare la vita sulle montagne carsiche significa anche far capire che c'è ancora una storia da scrivere una storia fatta di valori di impegno e di ideali quei valori che restano i mutati seppur cambiano i contesti storici i giovani andano sempre ideali oppure ricercano e per essi sono pronti al sacrificio come i ragazzi del 99 immolati alla causa della patria e sui quali si è costruita un'identità nazionale nel primo dopoguerra ma oggi Alessandro Amorese per l'occasione del 10 aprile con i direttori Michele De Feudis di Barbadillo.it e Fabio Torriero di Intelligonews.it ha parlato di giovani che sognavano una rivoluzione la storia ma raccontata del fronte della gioventù e che lui ha sentito il bisogno più che il coraggio di raccontare ci sono c'è possibilità ancora di avere ideali nei giovani di oggi? c'è possibilità e c'è anche l'esigenza è un'esigenza per prima di tutto per la nostra Italia prima di tutto per i figli dei figli nipoti che vogliono in qualche modo ancora non solo partecipare ma anche cambiare le cose quindi partecipare per vincere grosso modo dicevo per la nostra Italia che è un po' il punto di riferimento per quanto mi riguarda e per quanto dovrebbe essere una gioventù in qualche modo che esiste e non solo esiste nei social network esiste diciamo in questo mondo virtuale ma nel mondo delle piazze delle scuole dell'università e adesso la rubrica carta canta di Giancarlo Falconi tutti noi ce la prendiamo con la storia ma io dico che la colpa è nostra è evidente che la gente poco sedia quando parlo di sinistra destra ma cos'è la destra cos'è la sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra destra sinistra basta 123 siamo puntata di carta canta oggi parliamo della terramo ambiente parliamo di quelle persone degli esuberi della mobilità perché voi sapete che la team è mobile un po' come la donna giusto? qual piume al vento qual lavoro al vento di che parliamo? parliamo delle persone che stanno protestando perché stanno per perdere un posto di lavoro sono di fronte alla prefettura a terramo questa mattina già ma sono gli unici esuberi? perché non si dice la verità? noi siamo fortunati con le carte c'è chi protesta per questa trasmissione però noi continuiamo fino a quando l'editore o il direttore non ci daranno il segnale di stop c'è chi protesta per le carte noi abbiamo trovato altri documenti sulla terramo ambiente sulla vera mobilità sulla mancanza di criteri perché i sindacati porranno l'accento sulla mancanza di criteri della mobilità e c'è un pool di avvocati della capitale pronti a unirsi tutti quanti insieme per difendere gli operai gli impiegati della terramo ambiente in mobilità ne vedremo delle belle poi vedremo anche le consulenze esterne della terramo ambiente andremo a contare a contabilizzare tutti quanti insieme ho trovato queste carte al cimitero al cimitero di Teramo dove lavora anche la moglie Brucchi che è un sesto livello la moglie del sindaco Brucchi vediamo un po' gli esuberi che non sono quelli dei servizi museali e dei servizi di pulizia li vediamo insieme poi siamo a interanno ufficio acquiste e gare due impiegati notate la firma del presidente nettezza urbana un impiegato ufficio finanziario c'è un impiegato in esubero ufficio tari due impiegati in esubero ufficio tecnico e servizi un impiegato e un coordinatore vabbè non è stato detto mi sembra vero? le cose si dicono piano piano poi le carte nella terramo ambiente non escono non escono le carte nemmeno quelle richieste dai consiglieri comunali altro mistero servizi ambientali un coordinatore e un altro coordinatore la segnaletica stradale cioè uno specializzato servizi cimiteriali museali c'è un impiegato però non vi preoccupate perché è un quinto livello il sesto è salvo avevo un forte magone per questo motivo finalmente le carte filmate dal presidente ci dicono che il sesto livello è salto è salvo c'è rischio soltanto un quinto livello ma aumenteranno aumenteranno per ragioni e motivi che ancora non c'è stato fatto comprendere comunque e i sindacati sono sul piede di guerra e pronti nel tavolo tecnico anche noi con loro carta canta previsioni in abruzzo al mattino poco nuvoloso sulle aree collinare e montane sereno sulle aree litorane nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui massicci appenninici poco nuvoloso sui settori orientali tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale poco nuvoloso sulle zone adriatiche temperature stazionarie massime comprese tra 19 e 22 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 21 e 24 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli o moderati settentrionali mare calmo quasi calmo in provincia di Teramo al mattino parzialmente nuvoloso sulle aree montane sereno sulle aree litorane e collinari nel pomeriggio poco nuvoloso su diverse aree del territorio provinciale tra sera e notte poco nuvoloso temperature stazionarie massime comprese tra 20 e 23 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 19 e 22 gradi sulle coste venti deboli o moderati settentrionali mare calmo quasi calmo ed eccoci allo sport iniziamo con il calcio domenica prossima il Teramo avrà a disposizione il primo match point per la matematica promozione in serie cadetta con una vittoria a Prato e un contemporaneo K.O. dell'Ascoli con la Carrarese i Biancorossi si ritroverebbero in B per la prima volta in 102 anni di storia il servizio il Teramo ha a disposizione il suo primo match point della stagione domenica prossima qualora dovesse verificarsi una combinazione fortunata di risultati i Biancorossi potrebbero ritrovarsi in serie B per la prima volta nella loro storia la possibilità che farebbe esplodere un'intera città è una e una soltanto la vittoria nella trasferta di Prato e un contemporaneo K.O. Casalingo dell'Ascoli contro la Carrarese una possibilità remota ma pur sempre da prendere in considerazione per il diavolo che deve perciò mettere lo spumante in frigo perché non ci si può far trovare impreparati dinanzi ad un eventuale appuntamento con la storia che quella del Teramo sia un'annata da ricordare lo dicono i numeri che sono sempre più da record con il pirotecnico successo raccolto al cospetto della Lucchese il tecnico Vivarini e il suo undici hanno eguagliato la squadra della stagione 1974-1975 che fu capace di ottenere la serie positiva più lunga del Teramo nel calcio di terza serie sulla panchina di allora c'era Fantini e quel diavolo dal dicembre 74 al giugno 75 riuscì a raccogliere 24 risultati utili di fila 12 vittorie 12 pareggi quella volta la corsa si fermò in casa di una novese ormai destinata alla retrocessione quel primato che resisteva da 40 anni adesso è stato cancellato dal nome di Vivarini e di tutti i protagonisti di questa splendida cavalcata una cavalcata resa possibile anche grazie alle magie del tandem Donnarumma-Lapadula con le tre marcature rifilate ai toscani sabato i gemelli del gol sono saliti a quota 38 marcature stagionali sulle 56 totali finora segnate dal diavolo miglior attacco dell'intera Lega Pro Diavolo cui adesso manca l'ultimo sforzo la ciliegina sulla torta a Prato si potrebbe completare l'opera lo spumante in frigo e aspetta solo di essere stappato in Serie D la trentesima giornata è stata favorevole alle formazioni terramane bene Giuliano e San Nicolò che hanno vinte i rispettivi impegni i giallorossi si sono avvicinati alla salvezza e i biancazzuri invece all'obiettivo dei playoff il servizio sono state 24 le reti realizzate nel trentesimo turno di campionato che si è giocato ieri pomeriggio nel girone F di Serie D giornata favorevole alle squadre viaggianti con quattro vittorie esterne a fronte di tre pareggi e due successi interni tra le abruzzesi l'unica che non è riuscita ad andare a punti è stato il Celano che ha perso il derby casalingo con il San Nicolò 0-1 il punteggio finale con gol realizzato alla mezz'ora del primo tempo da Armando Iaboni per effetto di questo risultato i marsicani hanno abbandonato le loro ultime speranze di agganciare la possibilità di disputare i playoff i biancazzuri di Epifani invece sono riusciti a centrare la loro quarta vittoria di Fira mantenendosi in scia alla zona playoff con la quinta posizione occupata dal Chieti sempre lontana appena a due punti Chieti che nell'ultimo turno è riuscito a sbancare per la prima volta nella sua storia il terreno del Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto 4-2 il punteggio finale in favore dei neroverdi trascinati al successo da un vittorio esposito in versione super il fantasista molisano ha realizzato una doppietta ed è uscito dal campo tra gli applausi del pubblico rosso-blu che poi a fine gara ha contestato ferocemente la propria squadra costringendo tutti i giocatori a togliersi la maglia prima di rientrare negli spogliatoi in basso invece colpo grosso del Giulianova Gialfadini ha battuto 2-1 il Matelica decisivo un gol siglato da Raparo in Estremis al minuto numero 94 i giallorossi hanno così messo in cassaforte tre punti molto importanti ipotecando in pratica la salvezza sul campo ancora dubidere invece sul futuro societario con il presidente esposito che a fine partita ha convocato l'ennesima conferenza stampa per chiarire lo stato della trattativa con la cordata massi una trattativa ancora lontana da giungere a conclusione tornando al campionato respira la Miternina che ha espugnato il campo della Recanatese 3-2 il finale con gol di Mariani e Garzia per i padroni di casa Torbidone Doppietta e Carrato per gli Aquilani che adesso sperano sempre di centrare la salvezza diretta per quanto riguarda le altre in vetta c'è stato l'allungo della Maceratese che vincendo 2-0 a Castelfidardo ha nuovamente staccato il Fano fermato in casa da un corviaccio campo basso la capolista ha 6 punti di vantaggio e vede sempre più vicino il traguardo della promozione nel calcio professionistico prosegue la lotta al vertice nel torneo di eccellenza abruzzese la capolista Vezzano e l'inseguitrice Paterno hanno vinto entrambe per cui le distanze in classifica sono rimaste invariate in basso è ufficiale il primo verdetto della stagione con il K.O. interno per 3-0 rimediato con il Montorio il Sulmona matematicamente retrocesso nel campionato di promozione in chiusura vi ricordo gli appuntamenti sportivi di questa sera su Teleponte tra breve alle 20.30 torna Biancazzurri la trasmissione condotta da Francesco Graduato e alle 21 invece sarà la volta in diretta di Biancorossi tra gli ospiti di Andrea De Aloisio Giancarlo Pulitelli e Gianluca Lapadula l'attaccante che sta trascinando a suon di gol il Teramo verso la Serie B e con questo è tutto grazie per l'attenzione buona serata grazie a tutti